benvenuti a tutti quanti analisi di aggiornamento con analisi ciclica metodo ball time a quanto riguarda il DAX e il MIB ci provo ok a fare da qua avanti analisi tipo flash tanto inutile girarci intorno se qualcuno vuole approfondire l'analisi ciclica c'è il mio corso gratuito e completamente gratuito su youtube che puoi trovare qui andando sul mio canale basta cercare Paolo Paesino ovviamente e basta scorrere una volta che tu vai verso il fondo troverai il corso di analisi ciclica gratuito sono più di 40 ore di formazione quindi cercherò di fare analisi molto veloci ti ricordo che tutte le mattine ci sono anche le analisi flash su bitcoin ethereum e solana e ad oggi da quando ho iniziato circa una decina di giorni fa non c'è stato un giorno in cui non c'è stato il segnale da me e anzi da me da l'algoritmo identificato quindi qualcosa di veramente straordinario ovviamente sito il trading per tutti.com canale telegang gratuito setup intraday e multiday oltre le mie varie analisi segnali intraday e multiday 49 euro al mese 129 euro a trimestre ieri due stop sul petrolio vabbè succede mercato completamente laterale lasciamo perdere e poi l'indicatore volta nel fior all'occhiello della mia attività frutto di 17 anni di studio mt4 e mt5 perché purtroppo per tradingview non si può ancora fare e ho già contattato più programmatori wizard quindi quali migliori tradingview non si può proiettare nel futuro spero che c'è la sinusoide nel futuro spero che in un prossimo futuro lo si possa fare per poterlo avere su tradingview nel frattempo non è un problema si utilizza la metatrader 4 o 5 con un conto demo come se fosse una piattaforma esterna per fare un'analisi professionale ricordo che professionisti non tradano ragazzi da questo ma tradano con monitor con un computer fisso portatili che sia ma con un computer ok quindi si può tranquillamente avere una piattaforma esterna veniamo alla nostra nasi quindi come dicevo le analisi saranno veloci era numerosa un attimo di spiegazione allora dax lo vediamo e trend di fondo 5 40 settimane fase di ribasso bella 39 del ciclo 40 giorni ok la breccata del ciclo 40 giorni darà il via a una fase di bassista il prossimo picco intorno al 5 di luglio vuol dire che abbiamo a disposizione ancora all'incirca un 12 13 giorni 10 giorni più o meno 11 del punto di vista borsistico prezzo sotto al limite quindi long non si può andare chiunque voglia comunque prendere un'indicazione long a mio avviso il primo livello utile a poter prendere in considerazione saranno chiaramente i massimi assoluti e questo ci porta a vedere che siamo ben lontani per poter andare a cercare un'indicazione razzista quindi al mio avviso la cosa migliore è quella di attendere e cercare poi successivamente uno shot con la rottura della trolley del ciclo a 40 giorni che possiamo andare anche ad aggiornare perché ormai direi che l'indicatore l'ha stabilito il ciclo da 40 giorni successivo ok quindi andiamo a prendere posizioniamo qua minimo e altro minimo che abbiamo la nostra nuova torna del ciclo 40 giorni l'indicatore permette anche di identificare le trend line cicliche che troverai nel corso di analisi ciclica gratuito andiamo a vedere adesso il MIB che non è molto differente dal DAX anche il MIB ciclo 40 settimane lo vediamo a fase ribassista poi utilizzo il ciclo da 40 giorni come ciclo dominante per quanto riguarda la nostra operatività ok inutile avere un'onda composta anche se il mio indicatore ed è l'unico in grado di farlo permette di avere un'onda composta e quindi poter sommare tutti i cicli che vogliamo e andarli a sposare nella maniera più precisa possibile con il mercato ma a mio avviso diventa inutile e più che sufficiente utilizzare il ciclo dominante per il periodo diciamo medio lungo in questo caso 40 settimane poi il ciclo dominante per un'operatività che noi possiamo fare in questo caso si vede che in un punto di vista cicli più brevi si muove dentro a una componente cicca da 40 giorni ogni tanto chiaramente salta durata media 39 giorni parliamo di otto anni di storico tra l'altro quasi perfetti perché siamo a primo giugno 2016 come storico in questo caso già rotta la trenale del ciclo 40 giorni ok questo dovrebbe essere una trenale del ciclo a 20 giorni no è un dieci giorni quindi chi se ne frega di un dieci giorni onnestamente è fin troppo in troppo breve esatto e non tornando in 5 decisioni come immaginiamo vabbè mettiamo la 5-10 giorni è marrone colore della trenline quindi andiamo a metterlo colore marrone ok rimettiamo il nostro 40 giorni perché è quello operativo per la 5-10 giorni che sarà non male deve utilizzare come resistenza per una successiva una successiva indicazione ribassista in questo caso manca fino al 4 di luglio vediamo anche in questo caso siamo grossomodo intorno all'oggi avendo del 22 giugno ne ha 30 quindi 8 4 12 giorni togliamo il sabato e domenica ancora una settimana circa 10 giorni di borsa per poter poi vedere partire definitivamente la fase ribassista del ciclo 40 giorni 40 settimane vedremo se così sarà oscillatori per venduto questo non è che sia un granché come informazioni guardiamo se caricherà non tanto per capire quando saranno ipercomprato ma quanto ci metterà a caricare proporzionato alla salita del prezzo in questo caso il prezzo è salito abbastanza l'indicatore è rimasto da sotto l'oscillatore ci dice che il trend è rialzista era sostenuto però si sta appoggiando sulla trenline ciclica da 40 giorni che questa questa ormai la possiamo anche cancellare che non è più necessario utilizzarla vedremo come reagirà qua quindi attendiamo a mio avviso 4 di luglio per cercare nuovamente operazioni di ribasso e veramente questa resistenza l'andrea c'è qualche l'interna resistenza andrei a togliere anche questo supporto andrei a eliminare il primo livello di resistenza importante che abbiamo da poter utilizzare rimane quest'area quindi stiamo parlando nel livello di prezzo di 33.967 con questo direi che è tutto mi raccomando iscrizione al canale e like sull'analisi e ci vediamo con la prossima nasi ciao ciao